Sicuramente Giovanni il Covid ci ha insegnato tante cose, ha sollevato tanti veli sulle criticità della sanità, del sistema sanitario italiano, però ha lanciato anche delle nuove sfide. Sì, grazie mille. Non sarà un discorso particolarmente lungo perché siamo già in po' in ritardo e comunque io avevo due priorità per oggi. Parlo ai giovani in particolare perché devo portare l'esempio dei colleghi più anziani. I giovani hanno delle enormi responsabilità in questo momento nell'evoluzione professionale sotto i 65 anni ormai il sesso è femminile, è quello che predomina, fino al 52%. Quindi l'evoluzione è professione e donne. Oggi abbiamo celebrato le donne professioniste sia per quanto riguarda la giornalista, per quanto riguarda il quartetto musicale, per tante situazioni nella nostra vita sia a livello infermieristico che a livello medico. Il consiglio che do ai giovani è di trovarsi dei bravi maestri, di sceglierli, di seguirli e naturalmente a loro spetta l'impegno anche di trasmettere le conoscenze. E' una cosa che si trova nella storia della medicina fin dal giornamento di Ippocrate. Però l'applicazione adesso è sensibilmente differente per quanto riguarda quella che è l'evoluzione tecnologica della medicina attuale. Si parla sempre molto più di telemedicina, medicina delle grandi macchine, chirurgia robotica. Sono tutti quanti dei sistemi, sono sistemi molto più raffinati ed evoluti, che in questo momento non riescono a colmare le carenze di quella che è poi la fine della necessità del ricambio del personale. Un ricambio personale che è stato rallentato per motivi economici purici del 2004, lo sappiamo tutti. Più di recente è stata un'evoluzione per quanto riguarda le borse di specializzazione e il corso per quanto riguarda i medici e medici in generale. Il 25% dei laureati attualmente desiderano andare a lavorare all'estero, secondo un soggiaggio piepoli per quanto riguarda l'Apnomceo uscito pochi mesi fa. E' una situazione diciamo drammatica perché nulla toglie a quella che è l'evoluzione della nostra professione per il futuro. Calcolate che dal punto di vista statistico negli Stati Uniti la cittadinanza più rappresentata per quanto riguarda i medici stranieri è quella italiana. Cioè noi forniamo più di tutti quanti altri paesi nel mondo medici agli Stati Uniti. Nulla toglie a queste aspirazioni di carriera però sarebbe meglio che certe persone rimanessero qui a fare l'evoluzione di quella che è la medicina italiana. Un sistema sanitario eco-universale e solidale, economico. A differenza per esempio di quello americano che ha dei grossi sbalzi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria tra i pazienti più ricchi e i pazienti meno abbienti. L'Obama Care è riuscito a dare l'assistenza sanitaria per la prima volta a 50 milioni di americani che erano completamente privi. Noi non abbiamo questi problemi, noi diamo tutto quanto a tutti in maniera universale e assistiamo tutti anche ai nostri ospedali. È un costo per la comunità sicuramente, però alla fine un'applicazione di quelli che sono i principi che trovate nel vostro codice d'ontologico di curare in maniera equa e identica indipendentemente i pazienti che si presenteranno per quanto riguarda l'accenso, stato sociale, coloro della pelle, lingua, religione e quant'altro. C'è già scritto tutto. Come dicevano a me, leone nei libri c'è scritto tutto, basta leggere. Ho cercato di leggere anch'io qualcosa. Da coloro che oggi voglio sfruttare come cinquantesimi di laurea vorrei ringraziarli. Vorrei ringraziarli tanto perché loro appartengono, come me, agli immigranti digitali, ai medici analogici, i medici di una volta, che poi sono anche molte volte evoluti. Mentre tutti quanti i neuroreati che dopo sfideranno sono inattivi digitali. Sono medici proprio di un'altra generazione per tante situazioni. Però, al netto di quella che è la professione specifica, ricordatevi che il rapporto medico-paziente è sempre un rapporto tra persone. Le famiglie vi insegnano a comportarvi in maniera adeguata dal punto di vista sociale. A me è stato sicuramente utile. Purtroppo non c'è una vera e propria scuola di comportamento nei confronti delle persone e dei pazienti. Si impara nei reparti, si impara frequentando a volte una qualità innata. Gli odontoi altri hanno una qualità innata nel rapporto con le persone. Perché se non, dato il loro rapporto esclusivamente privato, se non fossero predisposti spontaneamente al rapporto con i pazienti, non potrebbero neanche fare quel tipo di professione. Altri dovrebbero impararla sul campo. Altri avrebbero dovuto avere dei maestri di tipo di comportamento. Sta di fatto che poi, alla fine, la professione medica è una professione artistica. Nel senso che i medici sono un'elite. Hanno potuto studiare, hanno potuto fare una professione, un mestiere particolarmente importante di ruolo sociale. Devono dimostrarsi anche un'elite come pazienza. Come pazienza nel rapporto e come velocità. Mi rivisco, per esempio, ai medici di pronto soccorso. Branca che ho fatto anch'io per un periodo della mia vita, in cui in poco tempo devi parametrarti su chi hai di fronte, sul grado di capacità culturale, di recepire quello che tu devi dire. Ci parla tanto di consenso informato e di informazione col paziente, ma la trasmissione delle informazioni alla fine è un dialogo uno contro uno e ognuno deve partire dotato sia della cultura di base, sia deve essere anche aiutato o imparare da qualcuno, più anziano e più esperto di come comportarsi. La gente ci osserva, ci osserva tanto, maggiormente in questo periodo. Siamo tornati alla ribalta anche a livello politico-sociale per la pandemia Covid che ha messo in luce tutte quante le carenze del sistema sanitario nazionale. improvvisamente siamo diventati importanti. Lo eravamo anche prima, sia a livello del territorio che dell'ospedale, però lo eravamo importanti per i nostri pazienti e per la gente e loro erano importanti per noi. Ma non eravamo importanti per quanto riguarda i politici di investimento, perché sennò non saremmo nella situazione in cui versiamo adesso. Con 5.000 posti letto in terapia intensiva, aumentati improvvisamente a 7.000-8.000, ma aumentati solo i posti letto perché i medici hanno sempre gli stessi e gli infermieri idem. Quindi tutta quanta la pandemia per cui siamo stati celebrati e riconosciuti, beh, insomma, ce la siamo fatta sulle nostre spalle con tanta buona volontà e dedizione al lavoro. Per cui la celebrazione di questo tipo di attività è stata magnificata in maniera più importante a livello televisivo e questo è il momento attraverso anche l'espressione politica dal rapporto che c'è tra la classe medica e il governo e il Ministero della Salute tramite la Federazione Nazionale che riassume poi quella che è la rappresentanza dei medici nei confronti della politica perché quella politica deve trovare un rappresentante che è il Presidente Filippo Anelli in questo caso che ricopre questo ruolo e è riuscito in pochi anni ad avere degli enormi risultati attraverso una campagna stampa e una campagna informativa e di rapporto poi di tipo anche politico come l'aumento delle borse di specializzazione come lo scudo penale per i medici vaccinatori come diciamo tutte quelle attività durante il Covid la fornitura delle mascherine, di camici tutte le cose che sembrano ovvie in questo momento ma alla fine sono derivate da quella che è il rapporto diretto e la possibilità tecnica di portare le istanze di coloro che lavorano sul campo ad altre persone che sono veramente i responsabili poi della nostra vita, del nostro governo, delle leggi che però provengono da attività differenti e che devono essere atteguatamente informati questo è il nostro ruolo il ruolo di rappresentanti a me piace sempre tornare a fare il medico in corsia appena posso però dopo non so bene perché mi hanno dato anche degli altri ruoli che cerco di ricoprire come rappresentante della categoria questo è quello che facciamo noi negli altri giorni della settimana e la cosa più importante è quella che dobbiamo dare dei buoni esempi ai nostri colleghi più giovani hanno avuto degli ottimi esempi qui in questa sala stamattina dicendo i curriculum di coloro che hanno servito i pazienti e il paese con grande dignità e professionalità per tutta quanto la loro vita auguro a voi più giovani di seguire le loro orme e di essere evoluti nel tempo dal punto di vista tecnologico senza perdere mai però il punto di vista umano del rapporto col paziente grazie a voi grazie a voi grazie a voi